I fiori di San Dremmo sono arrivati a tutte le donne presenti sul palco dell'Ariston, anche a Francesca Michierin, la quale però ieri, diciamo così, ha rifiutato proprio quel mazzolino di fiori che, diciamo così, le sarebbero arrivati e avrebbe consegnato proprio questi fiori con tanto di rifiuto al violinista dell'orchestra. Emma Marrone li accetta, ma la Michierin li va a rifiutare, un giusto da valutare in che modo, punto di domanda, molti si pongono questo interrogativo. Dopo la pausina, dopo Lorena Cesarini, Emma si lascia andare e accetta di buon grado quel mazzolino di fiori, fiori però anche per Francesca Michierin, che però ringrazia, ma va a donare questi fiori stessi a un violinista uomo di orchestra. Era già successo qualche anno fa di tempo, quando le furono consegnate i fiori e Francesca li andò a consegnare direttamente nelle mani di FedEx, al secolo Federico Lucia. Vi ringrazio per l'ascolto, per la visione di questo video di oggi, è stato sicuramente un momento quello che la stessa Michierin ha creato, che ha colpito e non poco, ed è entrato al segno. Il video termina qua, iscrivetevi al canale Narratore Italiano, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti.